Un caffè a portar via. A portar via? Certo, ne abbiamo di due tipi, Michelle Arabica oppure Columbia Morning. E quale dei due tipi sa più di caffè semplice? A me piacciono tutti e due. Bene, prenderò il Columbia. Sono 3,40 euro, grazie. 3,40 euro per un caffè semplice? Ma questo è il caffè Columbia. C'è qualcosa che non va con la banca. Ho incontrato il tuo professore, il signor Collart, la scorsa settimana. Mi ha detto che ti sei ritirato due anni fa. Si può sapere che diavolo hai combinato in questi due anni? Ho riflettuto. E su che cosa sei lecito chiederlo? Su di me, su di te, su tutto. WMP, sa cosa significa? Valutazione medica psicologica. Conosciuta in gergo anche come... Test dell'idiota? Test dell'idiota. E chi crede sia qui l'idiota, io o lei? Buongiorno. Le polpette, sono buone? Sei frizzida per caso? Quanti anni hai? 17, 18? Fammi indovinare. Sei nato alcolizzato perché tua madre quando era incinta non riusciva a smettere di sbronzarsi. E tutto quello che tu desideri in realtà non è altro che un abbraccio. Yulica, vogliamo entrare? Hai presente quella sensazione che ti fa sembrare le persone che ti circondano in qualche modo tutte pazze? Ma se poi ci rifletti meglio, capisci che non sono gli altri, ma sei tu il problema. Vuoi il latte? Abbiamo anche il latte di sogno? No, grazie.